Nell'ambito del progetto On The Way è stato sviluppato il prototipo di un'applicazione che consente la realizzazione di metafore per la scoperta dei beni culturali attraverso realtà aumentata e realtà virtuale. Possiamo alla regia di Caserta e utilizzeremo un autobus di quelli che fanno il percorso all'interno del parco dell'azienda ATC, partner del progetto, insieme a Space, SPA, insieme a Gruppo Meta, insieme a Digital Commedia e a Metoda, SPA che è diventata Reload. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Permettano l'utilizzo dell'applicazione anche attraverso interazione vocale. L'unico ambiente dell'intera reggia ad essere interamente realizzata sotto il diretto e costante controllo di Van Vitelli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.